Buongiorno dall'Officina della Regina. Oggi faremo un detersivo per i pavimenti e andrà bene per tutti i tipi di pavimento fatta eccezione per i parquet. Sarà un detersivo facile da fare, ecologico e con ingredienti semplici da reperire. Occorre del carbonato di sodio meglio conosciuto come soda solvay che eccola qui e questa la trovate in tutti i negozi di detersivi e in molti supermercati, alle volte anche in alcune ferramenta. Poi ci occorre dell'alcol etilico denaturato a 90 volumi e questo fate attenzione quando lo acquistate perché si può confondere con un altro esergente che è a base di alcol ma non è solo alcol ed è sempre rosa e in confezioni molto simili. Poi ci occorre poco detersivo per i piatti, acqua di rubinetto e questo è tutto. Vediamo come si fa. Prendete un flacone di plastica e da un litro. Sono da preferire questi che sono quelli del detersivo per i piatti perché hanno questa chiusura che va molto bene per versare il detersivo sul pavimento oppure questi qui e anche essi che hanno il beccuccio in questo modo. Non è consigliabile utilizzare i flaconi spray. Mettete il flacone sulla bilancia, metteteci un imbuto sopra, azzerate la tara e pesate 180 grammi di carbonato di sodio o soda solvail o soda da bucato, ognuno la chiama in maniera diversa. Da non confondere con la soda caustica che invece è tutta un'altra cosa. 180 grammi. Adesso possiamo rimuovere la bilancia perché non ci serve più. Aiutandovi con uno stecchino mandate giù la soda nel flacone. Azzerate il flacone. A questo punto aggiungiamo l'acqua. Va benissimo l'acqua di rubinetto. Riempite il flacone per tre quarti. Adesso chiudetelo e cercate di sciogliere la soda. Noterete che si scalda un po'. Quando è parzialmente sciolta, rimettete l'imbuto e misurate 50 ml di alcol. Se non avete un cilindro graduato, potete calcolare l'incirca mezza tazzina abbondante da caffè di alcol. Aggiungetelo nel flacone. Poi misurate due cucchiaini di detersivo per i piatti. E aggiungete il resto dell'acqua. Io ne metto un po' meno perché il flacone era da un litro e cento. Chiudete, agitate un po' e fate sciogliere il contenuto. Ci vorrà qualche minuto, ma si scioglierà, state tranquilli. Qua si è sciolto. Lo faccio così. Se vedete troppi pezzetti grandi che avete difficoltà a farli sciogliere, potete travasare tutto il contenuto del flacone nella brocca e poi con un cucchiaio romperli e poi riversarlo nel flacone. Io stessa l'ho travasato nella brocca perché ci sono dei bei sassolini grandi e così cerco di farli sciogliere aiutandomi con un cucchiaio. Questa soluzione non è proprio satura, quindi il carbonato di sodio si deve sciogliere per forza. Non frullate con il frullatore perché provochereste la formazione di molta schioma e poi è difficile da rimuovere. Rimesso solo qualche piccolo piccolo puntino che si scioglierà da solo, non importa. La soda si è sciolta e il nostro esersivo per i pavimenti è pronto. Potete usarlo alzando il tappo e versandolo direttamente sul pavimento e passando poi uno straccio molto bagnato. Oppure potete versarne un po' in un secchio pieno di acqua e utilizzarlo così. Questo prodotto non fa schiuma o ne fa talmente poca che risciacquarlo è una cosa molto semplice. Potrete usare questo detersivo non solo per i pavimenti ma anche come detergente per i sanitari del bagno e per i quali dopo l'uso sarà meglio utilizzare un prodotto contro il calcare. Va anche molto bene per i piani cottura in acciaio inox. Un ciao dall'Officina della Regina e alla prossima ricetta! Ciao! 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 Ciao!